Adesso però parliamo di confrattigianato e soprattutto parliamo dell'economia del Piemonte. Io partirei, Presidente, da una notizia che è un bel segnale, poi probabilmente non è l'unico, i temi sono tantissimi, perché come dico ogni volta che incontro il Presidente di confrattigianato, il mondo dell'artigianato è estremamente variegato e complesso. Ogni volta lo dico perché c'è sempre un po' l'idea sbagliata e confusa, dire l'artigianato mi viene in mente il fregname, importante indubbiamente, ma non c'è soltanto lui, c'è veramente un mondo dietro dalle pasticcerie, al mondo del wedding, cioè al mondo dei matrimoni. E allora partirei proprio da questo, ci sono delle notizie positive, lo sapete che era tutto quel mondo, ovviamente si era bloccato perché non era possibile fare cerimonie, non era possibile poi andare a pranzo con i parenti e con gli amici, quindi tutti quelli che si andavano a sposare ci hanno un po' ripensato, speriamo non definitivamente, comunque adesso piano piano dovrebbe ripartire, ci sono 38 mila imprese impegnate nei matrimoni, 30 figure professionali coinvolte nel nostro Piemonte, pensate, nel 2019 sono stati celebrati 12.306 matrimonio, mentre nel 2020 soltanto 7.098, con un crollo del 42,3%, adesso vedremo ancora naturalmente nel 2021, ma il primo semestre è stato molto difficile. Quindi Presidente, uno parla del matrimonio, che bella è la festa, ma parliamo di economia e di famiglie che lavorano. No, in realtà è stato un disastro, perché la mancanza della possibilità di svolgere le cerimonie in modo corretto, compiuto e tradizionale, come è stato fatto fino ad allora, ha creato un collasso nel fatturato e fortissime perdite in tantissimi settori. Come giustamente diceva lei, ci sono 38 mila aziende solo in Piemonte, direttamente coinvolte nel tema dei matrimoni, ce ne sono tante di più che sono coinvolte indirettamente anche per servizi di tipo marginale, e tutte quante hanno avuto una forte perdita. Di queste aziende, 16 mila sono aziende artigiane. Sono imprese che oltretutto hanno anche un'altra caratteristica, molte volte sono attrazione femminile. Infatti la pandemia, con le chiusure che ne sono derivate, hanno dato un colpo durissimo all'imprenditoria femminile, che ha tenuto botta nei dieci anni precedenti al Covid, dieci anni di recessione, dieci anni pessimi, dieci anni in cui la componente femminile nelle imprese artigiane ha consentito a settori interi di tenersi in piedi, proprio per la caratteristica delle donne, di portare normalità, equilibrio, nuove soluzioni nell'azienda. Quindi abbiamo un doppio dolore, abbiamo la perdita di un comparto importante, e abbiamo un colpo duro all'imprenditoria femminile, che invece si è sacrificata tanto nei dieci anni precedenti. Ecco, questa imprenditoria femminile, in realtà non ci siamo messi d'accordo prima, però è un tema che GRP è particolarmente a cuore, ne parliamo spesso e non soltanto nei giorni un po' più istituzionali, in cui tutti parlano di questi temi. Peraltro abbiamo fatto, proprio la sette lunedì, abbiamo fatto il primo faccia a faccia, poi continueremo con delle primarie, e accanto a lei erano tutte colleghe a fare le domande, perché ogni tanto sembra che ci sia uno sbagliato disequilibrio. E invece questa idea dell'imprenditoria femminile, non soltanto come ruolo da difendere, perché è importante, perché è giusto, ma come per le caratteristiche importanti, tecniche e professionali? Ma c'è una questione etica di fondo. Allora, la componente femminile in un'azienda è quella che ha corretto, appoggiato, portato equilibrio nei pasticci fatti dal marito, per dire chiaramente. Dieci anni di tragedia economica prima del Covid, che hanno trascinato tantissime aziende in difficoltà, quelle che hanno avuto la fortuna di avere un socio, un coadjuvante o un familiare donna che si era imboccato le mani, che hanno portato un aiuto diverso, un'energia diversa, una visione distonica rispetto ai meccanismi a cui l'uomo che è fortemente individualista e orgoglioso è abituato. E quindi quello che mi fa più male è vedere durante una pandemia un colpo così forte inferto all'impresa femminile, impresa femminile che tra le altre cose è colpita dal fatto che la donna ha sulle sue spalle la responsabilità, volente o nolente, per quanto possa essere aiutata da un compagno di ampie vedute o meno ampie vedute, ha sulle spalle la responsabilità della famiglia, della mamma, dei suoceri, del papà, dei figli, eccetera. È un disastro, c'è un lavoro di una donna in un'impresa femminile, è una roba ciclopica. Ecco, molto interessante questa prospettiva. Abbiamo parlato quindi di 30 figure professionali, ma chi c'è nel mondo del wedding a lavorare? Facciamo qualche esempio. Beh, allora, al di là del fatto, uno può pensare facilmente a chi organizza i matrimoni, quindi al wedding planner, che è un artigiano, è una figura artigiana. Tenete presente che nel mondo dell'artigianato ci sono 350 mestieri. È quello che lui dicevo prima. 350 mestieri. Ma poi ci sono gli acconciatori, le estetiste, c'è il tipografo che stampa le bomboniere, c'è la pasticceria, c'è il catering, c'è il ristorante. I ristoranti moltissimi sono artigiani, perché trasformano il prodotto ed è prevalente il loro impegno nella trasformazione del prodotto. Quindi di fatto sono degli artigiani. Chi sviluppa servizi di trasporto, chi sviluppa servizi di noleggio anche abiti, i sarti, le sartorie. Noi abbiamo centinaia di sartorie di primo livello associate nostre in Piemonte, magari che sono a conduzione singola, che hanno magari una dipendente e che fanno le sfilate a Los Angeles, che esportano i loro abiti in America e sono molto conosciute. Certo. Quindi pensate quanti lavori sono coinvolti. Ecco, adesso allargando un po' quindi il nostro sguardo e pensando in generale al mondo dell'artigianato, peraltro enorme, come abbiamo detto, se ci sono tutte queste professionalità, adesso che speriamo, stiamo iniziando a uscirne, speriamo di non rientrarci, possiamo, riusciamo a capire bene a chi è andata peggio e chi è andato forse un po' meglio per questo periodo che abbiamo sopra? Allora, è andata malissimo a tutti. Chi sta recuperando un pochino è una parte del comparto edile, perché chiaramente è aiutato dal 110% dalle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sulle riqualificazioni, è andata meno male al settore alimentare, perché diciamo che chi ha avuto la possibilità, la fortuna, la bravura di essere inserito nei circuiti della grande distribuzione con i propri prodotti ha continuato a vendere, c'è da dire che la grande distribuzione ha fatto concorrenza sleale a tantissimi nostri produttori, perché non c'erano limiti alla possibilità dei supermercati di poter vendere, quando gli stessi produttori invece erano vincolati a tutta una serie di protocolli. Quindi tutti quanti hanno sofferto, ci vorranno ancora due anni prima di raggiungere i livelli pre-Covid, sicuramente se gli eventi ripartono, al di là dei matrimoni, tutta la filiera che è amplissima degli artigiani, pensate anche chi si occupa di grafica, di pubblicità, sicuramente ripartirà e un pochino di lavoro ci sarà, ma prima di riparare i danni, perché lo Stato non è intervenuto con degli aiuti consistenti, non vogliamo accusare nessuno, ma è un dato di fatto che purtroppo il governo ha fatto quello che forse poteva, non poteva far di più, ma ha coperto il 3, 4, 5% delle perdite nel migliore dei casi. Ecco, 5% delle perdite è veramente... E come hanno fatto però gli artigiani, come probabilmente anche altri lavoratori? Però insomma, per il lavoro dipendente poi ci sono un po' più di aggiustamenti, c'è la cassa integrazione, ci sono altri strumenti, ma l'artigiano poi come fa da bene? In concreto? Nel concreto ci sono migliaia di casi di povertà e marginalizzazione economica presso gli imprenditori, gente che prima orgogliosamente ha sempre condotto la sua azienda, magari aveva anche così questo modo di fare anche un pochino roboanti di chi lavora in proprio eccetera, di colpo si è trovata nella povertà, nel non poter pagare l'affitto di casa, nel non poter pagare gli adempimenti, nel non poter fare delle scelte che normalmente uno che ha un trend di vita normale e anche modesto possa fare. Migliaia di imprenditori artigiani dignitosissimi e che con grande orgoglio non hanno chiesto aiuto a nessuno si sono trovati in queste difficoltà e di qui sono intervenute un po' le associazioni, troppo poche perché non tutte potevano farlo, ma alcune associazioni del territorio piemontese, quella di cui non è un esempio, ha generato attraverso la propria ONLUS la possibilità proprio di intervenire in situazioni particolari, ha creato delle raccolte fondi eccetera. È stato un periodo socialmente devastante perché hai proprio visto la mortificazione del lavoro. Sì, ecco sì, questo è un grande tema. Peraltro Coldiretti, l'abbiamo detto nella prima parte del telegiornale secondo un'analisi di Coldiretti, a causa del Covid in Piemonte ci sono 40.000 famiglie in più in povertà nel 2020. E parliamo anche di gravi povertà, cioè i conti sono fatti in base alla speda media mensile e spesso basata anche sui generi alimentari, dove insomma uno almeno mangiare dovrebbe. E questo secondo lei, diciamo non sappiamo se sono esattamente queste 40 famiglie, ma comunque molte famiglie artigiane hanno... Assolutamente sì, è un dato ottimistico quello della Coldiretti, anche perché tantissimi... L'artigiano non ha il coraggio di mettere a fattore comune la propria difficoltà sbagliando, perché tante volte l'associazione può intervenire, quindi a dare una mano. Però manca proprio la cultura di dire guardate, è una situazione che nessuno fa colpa a chi che sia di questa cosa, però dicono non è colpa tua se sei in difficoltà, dillo e cerchiamo di intervenire. Lei considera che un 9% di caro della spesa per ogni famiglia comporta l'annullamento di tutto quello che è al di sopra dello strattamento indispensabile. Quindi è un disastro. Eh sì, perché poi a sua volta si crea un circolo vizioso per cui tutto quelli che lavorano in quella parte di quel 9% viene meno. E ultima domanda, perché siamo quasi chiusi ora, ma in termini di investimenti, io penso a un artigiano si sarà messo magari da parte un pochettino di soldini per provare a fare degli investimenti, migliorare alcune attrezzature, non lo so. Se adesso ha dovuto bruciare tutto per continuare a vivere, come fa? Sono dieci anni che di fieno in cascina non ce n'è, perché comunque le politiche recessioniste dei governi tecnici dal 2011 in avanti hanno devastato la capacità finanziaria dell'impresa artigiana. Adesso in più l'impresa artigiana piccola viene accusata di essere poco capitalizzata. La colpa è di una fiscalità che mentre in un paese dell'Unione Europea si attesta sul 40%, parlo di quella effettiva, 40-45%, c'è un'impresa artigiana paga il 75-78% di tassi. Quindi non c'è proprio paragone, non c'è possibilità di competere. Poi ci viene data la colpa di essere poco strutturati, di essere un freno alla crescita, ma i grossi player dell'impresa italiana hanno quasi tutti la sede in Olanda o in Lussemburgo e pagano le tasse al 15% lì. Quindi non diciamo fesserie, anche il governatore di Banca Italia purtroppo si è espresso in questo modo un po' strano, per cui noi ci siamo fatti sentire. Quindi insomma voi non avete le sede chissà dove. No, abbiamo la sede qua, paghiamo le tasse qua, insomma paghiamo i contributi previdenziali anche se non guadagniamo. Sì, sì, certo. Bene per nulla, speriamo invece che la situazione un po' migliore è davvero in bocca al lupo a tutti gli artigiani piemontesi per il loro lavoro e quindi adesso abbiamo visto quali sono un po' i settori che si muovono. C'è qualche cosa secondo lei che nelle prossime settimane o mesi, qualche settore che magari prima del Covid era un po' l'idea adesso avrà una spinta in più perché magari hanno scoperto delle cose e hanno una particolare voglia di fare. Lo so che il Presidente deve essere super parte. Adesso vi frusteranno a sangue i birrifici artigianali. I birrifici artigianali sono tanti, sono ottimi, sono fantastici. Bevete birra artigianale piemontese che è la migliore che ci sia. Benissimo, lo si prenderanno, speriamo per un effettivo rilancio. Grazie, grazie davvero al Presidente Confartigianato Piemonte Giorgio Felici e buon lavoro e davvero un saluto cordiale e un abbraccio a tutti gli artigianali piemontesi.